Auguri, 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 medicin emic! Grazie a tutti! Buongiorno, anche se darei più buon pomeriggio o buonasera, perché sono le tre e mezza, 4.020 qui in Italia, minister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, e questo significa che non è quella giornata veramente, 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 come questi giorni, in questo periodo, perché ci sono comunque dei gradi in meno. Poi, come ho detto, questi giorni cambierò la frase, gli aggettivi, ne parlerò meglio e poi in seguito, quando subentrava l'inverno. Today, first of all, e forse già l'ha capito dal preview, dall'opening del report, I would like to wish a very, 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 very happy 51 birthday to Madsen Emic! ovviamente, grandissima, bellissima donna, affascinante, quanto anche intelligente, la nostra Shelly Johnson di Twin Peaks. Sì, ammetto che in un'altra vita, fossi nato nel suo tempo, l'avessi mai conosciuta, l'avrei voluto avere come ragazza, come donna, insomma, per tutte le sue qualità, ma penso che sia il desiderio di molte persone che a vita hanno visto Twin Peaks, il trio Shelly, Dana e Audrey, ovviamente, sensazionale, ma tutte le donne di Twin Peaks, del suo mondo, sono bellissime, c'è poco da fare, complimenti per questo, ovviamente, e quindi sì, una donna veramente unica, bellissima e altrettanto appunto intelligente. Ande, Madsen, Emic, e appunto il preview che ha visto all'inizio riguarda l'interpretazione della sua composizione di, con un compasso di mangiolo, badamenti proprio di Shelly, un pezzo risalente proprio da un anno fa, e poi ho anche un'altra interpretazione un po' più vecchia, ma inserisco tutte le informazioni e i link dei video completi in descrizione. Poi pensavo al mio Napoli, che oggi affronterà una partita abbastanza difficile in casa, contro l'Empoli, confido sempre nel suo numero che uscirà in Today's Number, Today's Number Is, vediamo un po'. E poi pensavo anche a quanto siano importanti degli oggetti in generale, ma anche oggetti così piccoli come questi, e in particolare per pulire i denti, per limare i denti e togliere tutta la sporcizia, tutta la sporcizia che si accumula in mezzo ai denti, e gli oggetti. Anyway, as you just see, from the window, Finalmente, we are, We have those beautiful blue skies and golden sunshine, e penso che dureranno fino ad aggiungere la serata, cioè tra qualche ora. Da quello che ho letto, dovrebbe esserci anche nei prossimi 4-5 giorni, meglio così, non c'è bisogno di aggiungere altro. Non dirò nemmeno la frase che ha alto, ovviamente. Said this So, from the mythical window, with the colored curtain. Veramente, non c'è nulla da dire oggi, bellissima. Sublime, potrei dire. And it's Green Roller shooter. Behind me, on the top, or here in the shot. E quindi non mostrerò neanche le palle dell'albero, le bellissime magiche, giant, beautiful magic, golden and white balls, from the Christmas tree, albero divino, perché ovviamente, ce l'abbiamo finalmente, those beautiful blue skies and golden sunshine. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG, IPG 625. Have a great day him, all the people, follow the channel and the reports. Si, veramente, un saluto a tutti. So again, have a great day him, all these people, and everyone too. And then we'll see you next time. Bye.